In questi giorni sono arrivando ai cittadini ebolitani le cartelle tari inerenti agli accertamenti del 2015. Considerando che le prescrizioni scattano dopo 5 anni, la richiesta del Comune di Eboli sarebbe pertanto giunta fuori tempo massimo. Le cifre richieste superano in molti casi 300 euro e prevedono una sanzione pecuniaria. Si irroga altresì la sanzione amministrativa del 30%. Si legge nelle cartelle inviate ai contribuenti ebolitani. Ovviamente queste richieste di pagamento sono state inviate per omesso o parziale pagamento della tassa sui rifiuti tari dopo appositi accertamenti e controlli degli uffici preposti. Pertanto, tra luce e gas alle stelle con aumenti esorbitanti, anche il doppio rispetto all'anno scorso, alle famiglie ebolitane arriva un'altra stangata. Sulla vicenda è intervenuto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Damiano Cardiello. Fermeremo queste inutili investazioni fiscali. Tanti cittadini ci hanno segnalato plurimi casi di notifiche a contribuenti di ruoli 2015 della tassa tari per omesso o parziale versamento. In moltissimi casi si tratta di cartelle prescritte. Il termine di prescrizione è pari a 5 anni. Tali notifiche però costringeranno numerosi utenti a doversi affidare a un legale per far sì che un giudice ne dichiari l'intervenuta prescrizione del conseguente annullamento. Il consigliere Cardiello, che è anche avvocato per venire incontro ai cittadini, ha annunciato offriremo assistenza legale gratuita a tutti i cittadini vessati che in questo momento di crisi economica hanno ben altro a cui pensare. Nel mentre, però sempre secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia, si profilano spese legali e contenziosi per l'ente che in questo momento non dovrebbe essere proprio all'ordine del giorno, viste la carenza di personale a disposizione degli uffici. Grazie.